In diretta, naturalmente l'intervista con Marcello Lippi, a più tardi. Denti più sani, vivi da Inxilic, oggi anche nel nuovo formato da 75 confetti. E quanto stai via? Tanto spero. E se stai la tua roba? E' tutto quello che mi serve? Cioè zero. Zero. L'unica cosa che ti servirà davvero quest'estate è 00 Summer di Vodafone. Per parlare e mandare sms a zero centesimi. Life is now. Vodafone. Titta. Venga, Vodafone. Venga, corri. No, Vodafone. No, Vodafone. No, Vodafone. No, Vodafone. Sorry. Vodafone. Oh, Vodafone. Vodafone. Ti piace vincere facile? Gratta un miliardario e scopri quanto è ricco. Gratta e vinci. Vinci spesso, vinci adesso. New Modus Brain, carattere d'acciaio. E aggiungo su tutta la gamma Modus fino a 3.000 euro di vantaggi sulle vetture in fronte a consegna. Siete sicuri dell'acqua che bevete? Ferrarelle riceve i suoi preziosi sali minerali dalla natura e le sue bollicine dalla forza di un vero vulcano. Scegliete Ferrarelle, l'unica effervescenza naturale certificata. Liscia, gassata o Ferrarelle. E' così.